In fondo cos'è che non si fa per continuare a pubblicare immagini di viaggi meravigliosi e di una famiglia felice? Archiviata la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, sembrerebbe essere arrivato il momento di una tregua concordata. Un accordo definitivo in grado di contenere gli eventuali sviluppi negativi a livello pubblico della coppia, cresciuta e consolidata grazie alla popolarità sui social media, grazie ai dibattiti e all'amore di milioni di follower nel mondo. In merito a ciò che starebbe accadendo, il settimanale oggi si lancia in un'ipotesi assai precisa. Si tratta di un accordo pacifico, giunto al termine di un pericoloso periodo di silenzio social da parte di Fedez, che stando a quanto dichiarato dal cantante non sarebbe dovuto all'insofferenza della moglie, che invece è stata capace di stargli amorevolmente vicino in questo periodo oscuro. Nuovamente adesso possiamo rivedere lo splendore e la quotidianità della loro vita, con la seconda stagione, in arrivo il 18 maggio, della chiacchieratissima documentaristica su di loro per prime video che hanno girato proprio durante i giorni più, concitati del Festival di San Remo. Lei non chiede il divorzio, non c'è nessuna crisi, torna tutto come prima. Tuttavia, con un patto, in cui Eluia chiede alla moglie di limitare le sue frequentazioni con alcune celebrità del mondo della moda. Si tratta di gelosia? Un'attenzione eccessiva che nasconde qualcosa? Per il momento, la pace sembra essere tornata. Si vedrà cosa riserverà il futuro di questa serie tv.